L'influencer italoamericana si è scagliata contro il nuotatore riportando a galla alcune vecchie questioni, le sue parole. Tra solei sorge Emanuel Bortuzzo, inquilini della casa del grande fratello VIP6, non corre buon sangue. I due vipponi hanno dimostrato di non vedersi di buon occhio soprattutto nelle fasi finali del reality show, quando hanno iniziato a nominarsi a vicenda. Oggi, a distanza di mesi dalla fine dell'avventura nella casa di Cinecittà, l'italo-americana non si è tirata indietro dal lanciare una frecciatina al veleno contro il nuotatore. Ecco cosa ha detto e perché. Solei sorge appunzecchiato Emanuel Bortuzzo. Lo ha fatto attraverso un tweet pubblicato nel pomeriggio di oggi, 5 giugno 2022. L'influencer 27enne ha ricondiviso un articolo di Bici a proposito del nuotatore commentando così, utilizza più amore e meno odio, cit, le ipocrisie invecchiate male. Per capire il senso della frecciatina bisogna avere chiaro il contesto. L'articolo in questione ha come oggetto le parole di Bortuzzo, che ha commentato il polverone che si è alzato su un'altra vippona del GF VIP 6, Clarissa Selassie. Quest'ultima, di recente, è stata criticata in quanto ha cancellato all'ultimo minuto un'intervista a Radio Radio, all'interno della trasmissione condotta da Giada Di Miceli, non succederà più. L'ex di sua sorella, Lulu Selassie, ospite dello stesso programma radiofonico, ha detto la sua sulla faccenda. Il 23enne ha cercato di sottolineare quanto, ha detta sua, quello di Clarissa sia stato un comportamento sbagliato che lui non terrebbe mai. Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima, ha detto alla Di Miceli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.